ciao a tutti e bentornati sul mio canale youtube come state spero bene io sono tornata con un nuovo video e oggi apriremo insieme questo pacchetto misterioso misterioso non tanto in realtà io conosco già il contenuto di questo pacchetto ma sono curiosissima di vedere i prodotti da vicino sono le tote bag makeup bag inviatemi dal sito wiskf non so come si pronunci bene quindi scusatemi ma trovate il link ovviamente nella descrizione qui sotto al video e sono super super curiosa di scoprirle perché ho scelto alcuni design che mi piacevano molto quindi andiamo subito ad aprire il pacchetto insieme da un'altra visuale oggi purtroppo il tempo non è dei migliori ma sono comunque super curiosa di aprire il pacchettino e vi ricordo che l'azienda ha riservato per voi tutti anche un codice del 5 per cento di sconto che vi scriverò qui in sovrimpressione e si chiama natalia 05 off il codice vale per sempre quindi se vi piacciono queste tote bag le potete assolutamente acquistare con questo codice sconto che vi lascerò sempre in descrizione ma andiamo ad aprire sono super super curiosa c'è un'altra bottina di protezione wow prevedo già cose bellissime no questa è strepitosa allora iniziamo con una alla volta questa è una make up bag quindi per i trucchi e andiamo a vedere subito la qualità no mi piace tantissimo ragazzi stupenda poi adoro questi colori e dovrei aver preso anche la tote bag dello stesso colore è anche imbottita all'interno e questo sicuramente la utilizzerò per il make up che mi porto sempre dietro in borsa ma è veramente bellissima con questa n ci sono di tantissimi ci sono appunto tutte le lettere disponibili se non mi sbaglio c'era anche disponibile in altri colori quindi molto molto carina c'è anche appunto qui un una solina e l'interno è tutto imbottito quindi perfetta direi proprio per il make up andiamola a chiudere stupenda l'adoro poi c'è la tote bag abbinata che è questa stupenda ragazzi non pensavo fossero in questa qualità vi lascio poi magari i link se vi piacciono nella descrizione del video e sto già pensando a come personalizzarle un po ma questa è veramente bellissima ragazzi è stupenda adoro con la n poi sono molto molto spesse come vedete all'interno è tipo telato è una buonissima qualità e questa si può insomma la utilizzerò soprattutto durante i viaggi queste borse sono molto comode e ma anche insomma nella vita quotidiana per appunto per uscire poi nera la posso abbinare praticamente ovunque i manici sono sempre in tessuto molto sembrano abbastanza resistenti sono hanno la doppia cucitura all'interno e devo dire che mi piace molto poi vi farò un'inquadratura diciamo migliore per farvela vedere un pochino meglio andiamo a vedere le altre perché sono super curiosa allora questa qui mi ha colpito tantissimo vediamo vediamo no ragazzi che meraviglia che meraviglia poi i prezzi sono veramente vantaggiosissimi sono insomma molto bassi secondo me sono perfette anche per fare dei regalini di natale ma questo è uno spettacolo cioè veramente uno spettacolo vediamo sul retro il retro è praticamente uguale e anche l'interno si è identico alla borsa che abbiamo visto prima con i manici fatti allo stesso modo quindi cuciti in questo modo e l'interno telato ma questa è veramente una meraviglia stupenda ultima anche questa è bellissima mi lascio i link ovviamente nella descrizione anche delle borse che ho scelto io se vi piacciono le potete tranquillamente acquistare con il codice sconto che è natalia05 off e questa anche ragazzi è veramente super bella questa mi ricorda molto il quadro di klimt e poi c'è questo viso da quest'altro lato quindi identica anche dall'altro lato stupenda anche questa devo dire che si sono identiche poi anche nell'interno mi piacciono veramente mi piacciono veramente tantissimo questo è tutto ciò che mi ha inviato l'azienda devo dire che quella che mi piace di più è questa qui è veramente strepitosa vi faccio adesso delle clip dove vi faccio vedere le borse più da vicino magari le appendo da qualche parte così ve le faccio vedere meglio ringrazio l'azienda per questo omaggio e per avermi fatto conoscere appunto i loro prodotti perché non li conoscevo quindi sicuramente li acquisterò per fare dei regalini grazie a voi per avermi seguito e magari chissà insieme potremo realizzare una piccola decorazione per una di queste borse adesso ci penso un attimino e qualcosa che si possa abbinare e in modo da personalizzarle diciamo al meglio grazie ancora e al prossimo video ciao ciao